Si chiama Gabriella Newfield e pensate che sarebbe una professoressa, una docente quindi, che diciamo così avrebbe avuto rapporti intimi con un ragazzo di soli 18 anni di età. La vicenda è una vicenda che ha degli incredibili, infatti è raro trovare una ragazza o donna che ha rapporti con un adolescente come nel caso di specie, tuttavia la giovane insegnante e il ragazzo avrebbe avuto dei rapporti per almeno 5 volte dal 18 ottobre del 2023, quindi quest'anno, e si sono protatti per un po' di tempo. Insomma, la ragazza o meglio la donna si sarebbe divertita con questo 18enne, ragazzo giovanissimo, e pensate che la madre lo avrebbe scoperto grazie ad un atto di tracciamento del telefono che ha permesso alla madre in questione di rendersi conto che il ragazzo 18enne andava a fottere con la bella Gabriele Neufeld, una donna di professione docente, quindi professoressa. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, seguitevi, commentate. Ciao a tutti, questo sarebbe quanto, chiaramente, uso il condizionato.